Viviamo la settimana più bella dell'anno, è il 24 dicembre, ma soprattutto è la vigilia di Natale, ma soprattutto è la vigilia di Natale. Radio Gente Umbra, Radio Gente Umbra, Radio Gente Umbra, la città si accenderà sotto le luci delle feste, le luci delle feste. Tutto intorno splenderà, e la musica che senti, la musica che senti è su Radio Gente Umbra, Radio Gente Umbra. Le scale in fretta salirai per sentirti meno al freddo, ma lo stereo è ancora spento, in macchina, semaforo. Un ritornello nella testa, il ritornello nella testa. La radio, la gente, la tua città, cantiamo insieme, la radio, la gente, la tua città. Buon Natale e buone feste per voi da noi di RGU Sintonizzati al buon umore e poi alza il volume di RGU Radio Gente Umbra, Radio Gente Umbra Sei tu la celebrità Se vuoi il Natale più speciale canta con RGU Tanta gente come te che ha un ritornello nella testa Il ritornello nella testa è la radio, la gente e la tua città Cantiamo insieme la radio, la gente e la tua città Buon Natale e buone feste per voi da noi di RGU Sintonizzati al buon umore e poi alza il volume di RGU Viviamo la settimana più bella dell'anno, è il 24 dicembre Ma soprattutto è la vigilia di Natale La città si è accesa ormai sotto le luci delle feste Tutto intorno splende, solo un pensiero nella mente Perché non stai con noi per un anno nuovo di musica Stiamo insieme, brindiamo, festeggia con noi Buon Natale e buone feste per voi da noi di RGU Sintonizzati al buon umore, poi alza il volume di RGU Radio gente Umbra, radio gente Umbra Buon Natale e buone feste per voi da noi di RGU Grazie a tutti